Cosa abbia scatenato la furia del figlio saranno i carabinieri a chiarirlo, se si sia trattato di problemi relativi ad un'abitazione o un gesto punitivo di chi non avrebbe mai accettato la scelta del padre di collaborare con la giustizia, tanto da definirlo infame anche in pubblico. Certo è che Silvano Galati, 69 anni, di supersano, in passato affiliato al clan Kukuraki della Sacra Corona Unita, è stato aggredito dal figlio 46enne. Un colpo in pieno volto con una spranga di ferro, uno zigomo fratturato, la corsa in codice rosso all'ospedale di Tricase ed un delicato intervento chirurgico per Galati che nel 2005 decise di collaborare con la giustizia. Fu lui a rivelare che la criminalità organizzata aveva l'abitudine di smaltire rifiuti di derivazione calzaturiera, tombandoli nelle campagne tra supersano e cutrofiano per risparmiare sui costi. Si scavò anche nelle zone da lui indicate per andare alla ricerca di materiale derivante dalla lavorazione di fibbie, borse e cinture.